siete stati già in tanti a contribuire se non ci hanno chiesto tante altre stampe quindi abbiamo deciso che Michele si è accollato per firmarne altre 50 quindi alzeremo a 100 la quota sui colori che saranno incontrati e le personate che avranno la stampa terminata da zero calcare io sto già abbastanza di imbarazzo le 50 cose va bene grazie